buongiorno buongiorno e benvenuti in questo nuovo video sono davide gasparini e sono qui con la mia trade bike extra mallet 160 all'anteriore 150 al posteriore e oggi sono qui per affrontare uno dei sentieri a mio avviso più cazzuti del vento del triveneto gallo mato si signori oggi diretto sul gallo mato discesa abbastanza importante prima parte su terra il resto tanta tanta roccia molto lunga credo saranno circa 15 minuti di discesa oggi proverò a farla tutta attirata da in alto fino a ok tutto pronto un po' un po' Buongiorno a tutti No, 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 no Grazie a tutti Adesso si entra sul pedale o pianta il naso Un tratto abbastanza pianeggiante Qui bisogna sempre rilanciare Per avere una buona velocità Quindi ci si impianta Queste pietre Questa è la mia super Con i peda di fret E vedete, mi ha dei piccoli anni, mi fa vedere lì Grazie a tutti 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 Un tratto che è un tratto che è sempre stato un po' ostico Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti